ciao bimbi ciao bimbi allora oggi dovete dire a mamma e papà se vi comprano un quadernone grande a quadretti di un centimetro come questo poi prendete tre pastelli rosso giallo blu e iniziamo con la prima pagina vediamo che cosa dobbiamo fare inizia a colorare il primo quadretto di rosso il secondo di giallo l'ultimo di blu ora ricomincia da capo prima rosso poi giallo poi blu finita la riga vai in basso facendo tutto il contorno del foglio adesso scrivi il tuo nome una volta scritto il nome fai un disegno che più ti piace mi raccomando il quadernone si usano sempre i pastelli cioè colori a matita ciao ciao a domani ciao buon lavoro